Pensare alla storia di Taranto, alle insigni, tradizioni magno-greche di Taranto e vedere come la cultura a Taranto, l'arte viene calpestata nell'indifferenza e nel menefreghismo assoluto delle amministrazioni comunali, in ultimo l'amministrazione Melucci, questo addolora veramente chi vuole promuovere il territorio di Taranto. Io mi sono candidato sindaco con Taranto senza ilva trasversalmente ai partiti perché ritengo che la storia di Taranto vada onorata e assieme ad essa ogni forma artistica che esalta i nostri trascorsi. Ho al mio fianco la professoressa Giovanna Bonivento che è archeologa, che guida turistica, nonché presidente della vecchia Proluco di Lama. Ecco, Giovanna, vedendo questa realtà ci troviamo in via Icco, quasi ad angolo con via Cesare Battisti, proprio accanto a un parcheggio, e c'è il murales che ricorda, esalta, commemora la figura storica dell'atleta di Taranto, Icco. Un murales che giace in condizioni davvero di abbandono assoluto, di decozione sta crollando a pezzi, peraltro in un contesto in cui le macchine parcheggiano sui marciapiedi e oscurano il manufatto, insomma è davvero uno schiaffo alla cultura. Sì, in effetti questo luogo, questo sito era un mercato, un piccolo mercato rionale che è stato trasformato in parcheggio e l'idea di dedicare il nome del parcheggio a Icco, già nel 2017, è sicuramente stata una bella iniziativa. Quello che addolora è come quest'opera che è stata realizzata da due artisti grafitari, uno di Taranto, Michele Rasta, che abita nella città vecchia e che saluto, e dal suo collega del nord, Teo, e si sono lanciati con entusiasmo a questa iniziativa che fu patrocinata, sponsorizzata dall'AMAT, con grande lungimiranza per quanto riguarda l'idea di richiamare la storia greca, magno greca di Taranto. La storia proprio nostra, le nostre origini. Eh sì, già il nome della strada, Icco, e poi il nome del parcheggio. Questa idea andrebbe spalmata in tutta la città, perché la città, se vuole superare una visione monotematica della sua comunità... Il solito discorso della monocultura dell'acciaio, la schiavitù, è non puntare sulla storia e quindi sul turismo. Sì, perché i quartieri di Taranto, Taranto in realtà è un po' anonima, quindi calpestando i vari quartieri non ci si rende conto di quello che c'era sotto, di quello che era la città, uno splendore, quindi bisognerebbe proseguire su questa strada. Però quando si realizza un'opera del genere, bellissimo, davvero, poi assistiamo appunto all'assoluta indifferenza dell'amministrazione comunale, l'ultima amministrazione Melucci e vedete si sta letteralmente sgretolando a pezzi, l'intonaco è completamente caduto, c'è umidità e la cosa più assurda addirittura c'è una porta di un bagno, di un bagno pubblico o qualcosa del genere che viene praticamente aperta e chiusa e coincide con appunto la rappresentazione grafica che è stata fatta. Penso che sinceramente vedere una porta di un bagno che si apre e si chiude dinanzi ad un'opera del genere fa molto male. Sì, non c'è amore per l'arte contemporanea a Taranto, diciamocelo francamente, bisognerebbe proprio puntare a questo. Adesso è vero, sono stati realizzati vari murali in vari punti della città, però una volta che si fanno le opere vanno anche curate, manutenute. Qui noi possiamo ammirare delle scene molto interessanti che ci rievocano questo personaggio, il mitico Ikos che fu il vincitore del pentathlon, quindi le gare, cinque gare, nelle panatenaiche, nelle panatenee. Fu talmente bravo che addirittura gli fu dedicata una statua nel Tempio di Era ad Olimpia. Giovanna, proprio alle nostre spalle vedi qui proprio questo schiaffo veramente che grida vendetta. Sì, qua noi abbiamo una parte del murale che è dedicato all'itticoltura. C'è un polpo, c'è un'immagine di un polpo. È proprio un'idea di far capire come una delle economie portanti della Taranto classica, della Taranto magno greca, atteneva alle risorse del mare, soprattutto del mare piccolo. Tu sei una guida turistica, quindi conosci bene esperienze di altre città italiane in cui davvero si valorizzano queste opere. In altre città si valorizzano, qui invece si calpestano, perché significa calpestare. Il lavoro di chi le ha realizzate è la fruizione, la possibilità di fruirne, è da parte dei cittadini, è da parte dei turisti. Non penso che facciamo una bella immagine con un turista che viene da fuori, che apprezza l'opera e poi vede lo stato di degrado in cui versa. Io stessa porterei il turista nei luoghi della memoria, della memoria storica. Però devo dire che ce ne sono molti che di memoria ne hanno tanta, però poco valorizzata e poco fruita. L'assurdo è poi vedere i cassonetti che sono stati allocati proprio di fronte a questa opera d'arte. Evidentemente l'amministrazione Melucci non ha proprio rispetto di un'opera d'arte al punto tale che gli dedica i cassonetti. E poi, come vedete qui, anziché restaurare l'opera, c'è un po' di pittura che evidentemente copre delle scritte, degli atti vandalici che erano stati compiuti. Sembra proprio che a questo punto il buon Icco si stia rivoltando nella tomba. Ecco, vedete, fare cultura vuol dire riscoprire le nostre tradizioni, ma anche curare quelle opere d'arte, quelle realizzazioni che fanno marketing territoriale. Purtroppo la realtà di Taranto è che l'amministrazione Melucci non ha avuto questa attenzione, non ha avuto uomini esperti di marketing territoriale, non ha avuto uomini esperti di turismo. Voglio dire, è giusto che ognuno abbia le proprie competenze e venga impiegato in un'amministrazione valorizzando quello che è il suo background, quello che è il suo patrimonio culturale. Vedendo queste immagini veramente la rabbia sale, eppure non ci vorrebbe molto a valorizzarle, ma si sa, questa amministrazione Melucci ha saputo solo gettare fumo, ha puntato molto sull'immagine, una falsa immagine e poi i fatti la condannano in maniera impietosa. Grazie